Ien, cari amici e cari amici del ciclo stilografico romano, prova lampo di due Opus 88 mini pocket, la versione ridotta di fatto delle Opus 88 jets, più corte, più compatte, anche più economiche, forse più divertenti per la loro idea. Ne abbiamo qui due versioni, questa in colorazione rossa, adesso Carolina ci aiuterà e ci dirà come si chiamano esattamente, poi questa che sembra il traguardo di un circuito di Formula 1 o comunque di macchine. Allora la rossa si chiama Ladybug, mentre la Opus 88 mini a scacchi è check. Ecco, una fantasia incredibile che hanno avuto nei nomi, benissimo, allora le caratteristiche di queste penne sono praticamente identiche a quelle delle Opus 88 jets, il sistema di caricamento è ai dropper, in dotazione nella scatola che poi la classica Opus c'è già anche la pompetta per caricare la penna. I pennini sono i classici Iovo o Giovo, penso veramente si dica Iovo, qui questo qua in gradazione extra fine rigido, il pennino è di dimensione comunque più piccola di quello montato sulla Opus 88 jets ed è di dimensione 5. Abbiamo detto il sistema di caricamento i dropper, questa è caricata quindi andiamo ad aprire in questo modo se no ci viene fuori di tutto, eccola qua, quindi si svita la sezione con il pennino e si carica direttamente l'inchiostro qui dentro. La capacità di caricamento è importante anche se la penna è di dimensioni ridotte, perché praticamente il serbatoio è praticamente l'intera parte del fusto della penna. Il sistema è come quello dell'88 jets, quindi per far affluire poi l'inchiostro verso la sezione verso il pennino, l'alimentatore del pennino, si deve svitare il fondello della penna, quindi da questa posizione si va a svitare il fondello della penna in modo da permettere l'afflusso dell'inchiostro, perché praticamente la guarnizione che va abbattuta sulla parte di innesto del sistema di caricamento dell'inchiostro verso l'alimentatore si allontana dal foro dove fluisce proprio l'inchiostro, l'inchiostro comincia a fluire. Si accumula una certa riserva all'interno della sezione per cui in realtà potete ottenere delle sessioni di scrittura anche relativamente corpose chiudendo il fondello e scrivendo le vostre pagine, quando l'inchiostro andrà ad esaurirsi potete di nuovo aprirlo e cominciare ad alimentare la penna. Questo sistema garantisce anche una sicurezza nel caso di trasporto di queste penne negli aerei durante i voli. Per chi volesse approfondire il tema del trasporto delle penne in aereo c'è un apposito video che avevamo fatto qualche mese fa e che trovate sempre sul canale del circo stilografico romano. La versione check è identica alla precedente anche se la livrea è in fase in colorazione completamente trasparente quindi questa è a tutti gli effetti una vera e propria demonstrator, anche questa è trasparente e permette comunque di vedere il livello di inchiostro presente all'interno, in questa invece è ancora più evidente. Il cappuccio è a vite e anche in questo caso abbiamo un pennino di gradazione F, non più extra fine ma fine, di dimensione ovviamente 5 rigido. Altre cose da dire sulla penna non c'è, adesso il prezzo direi che siamo sul dato di targa di circa 60 euro, 68 euro, 70 euro circa come costo di listino o di listino, insomma prezzo medio no, non è costo di listino, è un costo o prezzo insomma come vogliamo considerarlo meglio che abbiamo preso da un rivenditore e quindi ma l'ordine di grandezza sarà ovviamente quella, è un rapporto prezzo qualità decisamente favorevole verso queste penne che sono molto trasportabili, adesso poi Carolina ci dirà le dimensioni. Come qualità di scrittura non c'è veramente niente da dire, allora questa è la Opus 88 mini pocket, questa è la check, il pennino in questo caso è un fine. Questa credo che sia caricata con un diamine onyx black direi, se mi ricordo bene un onyx black. Sono sempre molto performanti e questi i pennini. Come attrito di scrittura e siamo su carta da pacchi nella scala da 1 a 10 dove 10 è il massimo attrito siamo a 3, 4 massimo, scorre molto bene, direi tra 3 e 4, il pennino scorre perfettamente, da basso verso l'alto, dall'alto verso il basso, da destra verso sinistra, da sinistra verso destra non c'è nessuna differenza, tutto uguale e questo è sempre un buon segnale di lavorazione del pennino o del controllo di qualità sul pennino stesso. Pennino che comunque è montato a vite per cui si può sostituire molto rapidamente, nessuno skipping, nessun salto, erogazione del flusso molto costante, non ci sono problemi di sorta su questa penna. Ovviamente il pennino è rigido per cui non pensate di avere una variazione di tratto perché non si può ottenere. Direi che possiamo anche chiudere il fondello e passare all'altra. Intanto abbiamo visto le dimensioni, comunque il pennino su queste penne è, diciamo così, la penna acquistabile con pennino extra fine fine medio broad e stab 1.4. Ve la faccio vedere ancora un attimo da vicino. Molto bella, se piace. Ecco questa è la penna unisex per eccellenza, devo dire. Allora questa è la versione Ladybug che vabbè ha le stesse caratteristiche dell'altra, tra l'altro diciamo anche un po' le dimensioni, quindi abbiamo una penna che ha lunghezza da chiusa 119 mm, lunghezza del corpo della penna quindi senza cappuccio 108 mm, con il cappuccio lungo 50 mm, il diametro è 15 mm e il peso è di 24 grammi. Insomma questa penna taiwanese devo dire si fa sicuramente apprezzare. La sezione in particolare è comoda, attenzione che non ci sono svasi che permettono di bloccare il posizionamento del dito, soprattutto dell'indice o di evitare lo scivolamento dell'indice sulla sezione stessa, però la sezione ha un certo grado di grip, è uguale a quella dell'altra penna e non presta abbastanza, diciamo non presta il fianco a critiche di qualunque tipo, tuttavia qualcuno insomma potrebbe magari non trovarsi benissimo, quelle persone che sono abituate ad appoggiarsi sulla penna stessa. Questo è il pennino extra fine, qui vediamo un po' aprirlo perché l'inchiostro tra l'altro sta finendo vedo, però sostanzialmente ancora un po' ce n'è. Allora questo pennino, questa è la Opus 88 mini pocket, questa è la Ladybug, il nib è un extra fine, qui l'attrito cambia, si sente la differenza, attrito di scrittura, nella scala 1 a 10 qui siamo un buon 6, tendente al 7. Quindi che cosa abbiamo? Da una parte il vantaggio di avere un attrito di scrittura maggiore, ma in questo caso anche un extra fine, è una maggiore precisione nella nostra scrittura perché otteniamo un tratto molto più fine dell'altro e in effetti la differenza si vede, adesso li mettiamo vicini, la differenza si vede tutta ma paghiamo come Dazio ovviamente il fatto di avere un attrito maggiore che non è fastidioso, non c'è particolare grattamento sulla carta però insomma il feedback e l'attrito c'è e la differenza comunque è visibile. Attrito che noi andremo sicuramente a mitigare transitando su una carta di maggior valore. Passiamo quindi qua sulla carta Rodia, andiamo a vedere che cosa otteniamo, quindi questa è la Ladybug e qui in effetti il nostro attrito di scrittura è molto meno evidente, adesso vi faccio sentire anche l'audio, però è veramente molto molto precisa questa penna, quindi si può fare veramente una scrittura con un tratto fine e piccolo anche, scrivo sempre più piccolo, ecco si arriva a scrivere veramente in dimensioni microscopiche, però rimangono perfettamente leggibili, cosa che sicuramente non riesco a fare con l'altro. Andiamo con l'altra che è la Check, eccola qua, qui l'attrito di scrittura è passato da quel 4, 3 addirittura a 2, 3, diciamo rimaniamo sul 3 ma tendente al 2, meno precisa, più scorrevole. Ecco qui il piccolo che avevo fatto prima non si riesce a fare perché comincia un po' ad accatastarsi l'inchiostro soprattutto in alcune lettere che hanno chiusure molto piccole come appunto la P di piccolo. Rimane una penna molto piacevole, vi faccio sentire la differenza nell'audio se si sente. Questa è il fine e questo è l'extrafine. Che dire, penne dall'ottimo rapporto qualità prezzo, resistentissime, perfino i graffi, queste penne sono state trasportate in tutti i modi possibili, immaginabili, non hanno mai prestato il fianco, non ci sono stati problemi, non ci sono stati problemi durante il trasporto in aereo, si sono comportate sempre bene. Ottima riserva perché hanno comunque di fatto, la penna è tutto serbatoio per cui si può utilizzare per giorni e giorni senza grossi problemi, ovviamente in maniera, relativamente alla quantità di scrittura che voi pensate di avere durante il periodo in cui l'avrete con voi. Molto performanti i pennini, leggermente, diciamo così, propenso a restituire un certo grado di attrito di scrittura e di feedback, questa qua, col pennino extra fine, col pennino fine, più scorrevole, leggermente meno precisa, ma comunque sempre tutti e due molto costanti nell'erogazione del flusso. Nessun problema di skipping, nessun problema di assenza di continuità, quindi piacevoli anche bei regali da fare perché arrivano comunque in una loro scatola che si presenta molto bene con il sistema, la pompetta che permette il caricamento, per cui pronti veramente all'utilizzo. Ce ne sono altre libree, almeno 6, 7, 8, alcune sono uscite anche recentemente, c'è sicuramente quella blu, c'è sicuramente una versione rossa con un cappuccio diverso, ce n'è una scura verde, una verde che è la dot, mi pare, no, come si chiama, la mini pocket, sì, la dot, che è verde con il cappuccio simile a questo ma bianco, e basta, insomma, ce ne sono 7, 8 versioni, sempre molto divertenti. Potrebbe essere anche un'idea per fare una collezione senza andare su cifre esagerate, anche se sempre 60, 70 euro si parla, però insomma può essere anche una bella idea per un collezionismo unisex, oppure anche femminino, maschile, insomma, a seconda degli appassionati e ovviamente del genere degli appassionati. Che dire, per qualunque cosa siamo qui, commentate e vi risponderemo appena possibile. Ciao e alla prossima. Ciao.